Game Freak ha subito un attacco hacker e centinaia di informazioni sono in circolo per il web, ma procediamo con calma. Innanzitutto benvenuti in questo nuovo video, video che non avevo in programma ma tanto che Game Freak è stata hackerata, mi sembra giusto coprire un pochino la notizia. Central X sembra aver ricevuto le informazioni prima di tutti. C'è questo gruppo Game Freak Out su Discord che sta comunicando insomma tutte queste informazioni e quant'altro e hanno detto per fortuna che non rovineranno le novità di ZA e della decima gen. Infatti Q sta continuando in perterrito con i suoi indovinelli. Ma vediamo un attimino gli sprite che sono usciti fino ad ora, ci sono anche delle musiche non utilizzate e tante belle cose anche di quinta gen. Comunque partiamo con ordine. I beta design per la generazione 3. Ragazzi c'è tantissima roba qui da vedere e mi sembrano tanti bellissimi sprite. Ci sono tantissimi sprite stupendi, magari poi alcuni sono stati scartati, introdotti poi in quarta gen come questa specie di albero di Natale che poi è diventato a boh masno presumibilmente. Ma nella generazione 3 comunque si avevamo già sprite di alta qualità. Questo non ho idea di cosa possa essere il primo ma questo qui è sicuramente un Flygon. Poi abbiamo quello che è diventato Vertic nel corso degli anni. Tanti tantissimi by design. Tra l'altro in descrizione trovate anche il link per Central X. e vi andate a vedere magari con i vostri occhi con molta più calma tutti quanti gli sprites, tutte quante le informazioni che saranno poi rilasciate nel corso degli prossimi giorni. Questo qui è un Blaziken barra Latios che poi ha perso le ali oppure le ha tenute come Latios. Ma comunque è bello vederlo come sprite e non come artwork. Poi abbiamo Shedinja, Loaded, altri Baby Pokémon che non sapevamo di avere e che ora vogliamo. Questo qui ha una bocca sul piede e che è un bene che sia stato cancellato. Fa tanti beta design scartati di Baby Pokémon. Un albero con una mela. Epplin forse, hanno ripreso un po' il concetto. Primarina! Questo qui è Primarina assolutamente! Palpitod... no, Palpitod... no. Questo è Seismithod? È Gastform, come è cambiato? Meno male che è cambiato. Perché questo qui è semplicemente un tornado. Abbiamo anche la schermata di lotta. Che devo dire, posso dire, per i tempi, era anche carina. E ti fa vedere il Pokémon sotto. Forse per le lotte in doppio era. Perché hai Blastoise sotto Rizadon, che è Charizard. Quindi, magari per le lotte in doppio, dovevi cambiare... Cambiava schermata, faceva apparire l'altro Pokémon in campo. Per fortuna che l'hanno poi cambiato e l'hanno fatto come lo conosciamo oggi. Beh, qui ti fa vedere i Pokémon, se hanno degli status con anche il simbolino. Mi pare di capire. Interessante! E qui la schermata con tutti quanti i Pokémon. Pokémon con due N. Tutti quanti, insomma, non placeholder. Però per vedere come apparivano in grafica. E sicuramente... A meno che queste qui, i colori, non sono delle Pokéball diverse. Perché, comunque sia, dalla terza gen... Ah, in realtà, fin dalla seconda gen, si cambia colore la Pokéball. Anche in prima, in realtà. Ma dalla terza gen è più evidente il cambio di Pokéball. Quando catturi i Pokémon. E poi quando lo mandi in campo. Però, boh, davvero, davvero carino. Ma vogliamo parlare degli starter? Quanto sono carini? Specialmente il coniglietto acquatico. Poi, vabbè, abbiamo avuto Mudkip, Trico. Era perfetto così, a quanto pare. E Torchic ha subito un piccolo redesign. Ma ci stava anche questo. Però il coniglietto acquatico ora mi fa davvero venire voglia di provarlo. Perché sembra carinissimo. Provarlo in gioco, meglio specificare. Oh mio Dio, è appena uscito un video completo con tutti quanti gli cheat per i concept art dei Pokémon. Sono 1962 fogli. Oh mio Dio. Ma questo è bellissimo. Assolutamente da preservare. Questo verrà buttato giù come non ci fosse un domani. Io spero di no. Abbiamo poi lo sprite beta di Meloetta, lo sprite beta di Kyurem, addetta di Central X, lo sprite beta di Emolga. Ma sono... Questo cos'è? È Conkldur questo? O Diggersby? Oddio, uno dei due è Dottor Eggman. Sì, effettivamente è lui con quei baffoni. Perché mi sembra che abbia delle braccia enormi con queste spalle giganti. Oppure Diggersby? Un concept art per Diggersby? No, un concept art. Una beta magari. Qui abbiamo ad esempio dei design beta di Lusinda che aveva le calze. Direi che era un pochino meglio. Poglia fra. Cyrus è fighissimo. Più da Yakuza. Sapete, no? Giapponesi un po' fissati con la Yakuza. Cultura loro. Come noi, mafia, pizza e mandolino. E vabbè, questi pure... Cavolo, è fighissimo così Cyrus. E Camillona? Vabbè. Altri design beta? Pulis, Moli. Bellissimo Scantang col ciuffo qui. Bello. Rotom, tazza. Vabbè, ragazzi. Meno male che l'hanno cambiato. È carino, eh. Perché a colpo d'occhio è diverso da quello che abbiamo adesso. Quindi è più bello. Ghiratina spelacchiato. Hunchcrow con la puzza sotto il naso. Perché c'ha i baffetti. Belli questi design. Poi, ovviamente, qui sono in bassa qualità. Dopo il Nintendo DS ha fatto la sua magia. Guarda quanti design. Quello che più mi piace è forse proprio Cricketune. Che è bello cicciotto. Qui altri design di quinta gen. No, no. Attenzione. Attenzione, raga. Oh, ci hanno privato di Godzilla. Poi ce l'hanno messo, però, in Nanogen con il drago. Bellissimo con il drago. Tandemouse. Wow, Dinos, Virus e Hydreigon. Mamma mia. Ma chissà quante fasi di lavorazione hanno avuto. Reshiram, Ezekrom, Stamfisk. Qua sopra Zorua e Zoruark che sono fighissimi con questi colori. Allora, il punto del discorso è... Vi lascio in descrizione il link per CentroLix per farvi andare a vedere tutto quello che hanno riccato. Hanno già smentito alcuni design che si sono rivelati falsi, quindi si sono già corretti subito. Io, CentroLix, non mi fido molto di quello che dicono, però questa volta sono stati la fonte primaria di informazioni, quindi bravi. Davvero, davvero congratulazioni a voi. E andatevi a dare un'occhiata per tutto, per leggere tutto con calma. Salvatevi le informazioni se avete magari un po' di spazio che non sapete come usare, perché io ho la paura che questa roba verrà cancellata. Allora, una volta che è sul web, rimane sul web, non si sfugge. Però poi potrebbe essere più difficile ritrovare il materiale. Qui abbiamo anche una beta intro per... Eh no, extended, quindi estesa. Una intro per Pokémon bianco e nero estesa. Ragazzi, ma perché questo materiale non l'ha messo chi infrecca nei giochi? Cioè, avete il potere di farlo. L'avete fatto. Avete speso i soldi per farlo. Dacci l'esperienza completa, no? Che poi tanto ai tempi non avremmo comunque capito il potenziale di bianco e nero. L'abbiamo capito solo quando ormai era troppo tardi. E ce la siamo presa in saccoccia. E adesso ci stanno anche facendo vedere come lavorano il map editor per la terza gen. Ragazzi, il video termina qui. E andate a vedere per conto vostro, con tutta la calma del mondo. E qui abbiamo altre informazioni. Tipo il codename Synapsy per il gioco in collaborazione con Ilka. Ragazzi, tantissime informazioni. Per questo video è tutto. Ci vediamo domani con la programmazione standard. Ciao! Ciao!